Il presidente della protezione civile di Gittà di Castello, Sandro Busatti, è stato eletto nella consulta regionale del volontariato di protezione civile e di Regione Umbria. Assieme al presidente della consulta sarà anche delegato nell'organo nazionale, Sandro Busatti. Ogni consulta di ogni regione elegge a sua volta due rappresentanti, un rappresentante che è sempre il presidente della consulta di questo Claudiano Santelli di Orvieto e un vice rappresentante, che sarei io in questo caso, che hanno la delega a partecipare alle riunioni a partimento su scala nazionale per quanto riguarda l'organizzazione, diciamo, volontariato di base di protezione civile. Volontariato che è molto sotto stress nella nostra regione in questo purtroppo periodo dall'agosto ad oggi. Ma sì, in realtà siamo ovviamente arrivati nel senso che non ne possiamo più di terremoto e dobbiamo continuare. Anche questi giorni eravamo a cartellù per aiutare i agricoli nella semina. Sembra assurdo, ma dovevamo bagnarli su delle strade che sono assolutamente imprabili. Questo determina che il viato ha dato, credo, la miglior prova possibile della propria dedizione alla causa, anche perché aiutiamo i volontari non guardano, anzi, al contrario, paga le divise, paga le assicurazioni, sembra allucinante, ma è proprio così. Il mio impegno in questi due anni in cui sarò rappresentante dei volontari è quello di cercare di contrattare con Regione Umbria il volontariato, nuova legge che dovrebbe prevedere dei fondi strutturali di volontariato che consentono quantomeno di abbattere i costi curativi degli automezzi dell'assicurazione.